Buona domenica dal TGR dell'Umbria e la giornata di apertura della stagione venatoria. Un appuntamento atteso dalle 40.000 doppiette Umbri. Scattano i primi controlli e già si registrano le prime denunce. Due cacciatori sorpresi nel parco naturale del Tevere, uno in un'area protetta del Ternano a Monte Castrilli. Particolari da Leonardo Gioia. Andà una caccia in aree naturali potette, dove l'attività venatoria è vietata, denunciati alla magistratura a tre cacciatori. Due di loro sono stati sorpresi dalla polizia provinciale di Perugia. Avevano abbattuto due fagiani nel parco fluviale del Tevere, nei pressi di Todi. Il terzo cacciatore denunciato si trovava in un'area protetta di Monte Castrilli, bloccato dalla polizia provinciale di Terni. Questi gli episodi più gravi nella giornata di apertura generale della caccia. 42.000 i cacciatori umbri, di cui 32.000 nella provincia di Perugia. Oltre a 400 controlli effettuati sull'intero territorio regionale, da 113 pattuglie delle due polizie provinciali e del Corpo Forestale dello Stato. Oltre 200 i controlli della provinciale perugina. 11 le sanzioni amministrative, secondo i dati delle due polizie provinciali. I tre cacciatori sanzionati agivano troppo vicino ad aree vietate all'attività venatoria. Nella sala operativa regionale della Forestale, una ventina di segnalazioni telefoniche dei cittadini residenti vicino alle zone di caccia. L'assessore regionale, Fernando Cettini, condanna le artificiose contrapposizioni fra ambientalismo di attività venatorie che sottolinea che chiunque pratichi la caccia deve avere piena coscienza della sua missione di tutela della natura e di rispetto per la rivoltura.